Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono a casa di mamma se potete vedere e iniziamo questo vlog della giornata del compreanno di Dania vabbè la giornata è già iniziata stamattina, Dania è andata a scuola, ha fatto la festa con i bimbi se mi seguite su Instagram già avete visto, grazie se non mi seguite su Instagram venite, anche su TikTok sono attiva e caricherò là tutte le cose adesso è arrivata la truccatrice, ora ve la presento si lei è la mia truccatrice, ve la presenta, abbassate un po' la mascherina, fatti conoscere qua vai, dici qualcosa di te sono Angela io lascerò tutto allora Angela, buon anno, la dovete seguire su IG perché lei è bravissima e vi giuro da quando mi ha truccato l'ultima volta io sciocco basita e adesso voglio solo lei infatti è venuta, da dove sei venuta? Orta di Atele in provincia di Caserta non pensate, poverina, si è portata anche la sua assistente ed è bravissima adesso vi faccio dire che trucco mi fa, andate a seguirli tutti, seguirli, seguirli tutti su Instagram Angela, buon anno a make up Angela, buon anno a make up, vai non so come fa, per le spose però pure per gli eventi, il compleanno esatto, tutti gli eventi, cerimonie in modo come facciamo vedere la volta finita ok, stack ok grazie, mia mamma ci teneva a venire in questo video allora, il trucco è finito guardate quanto è bello Angela se ne sta andando ma ha dato proprio il meglio di sé è bellissimo, guardate qua, c'è anche i brillantini che adesso richiamano l'abito vi faccio vedere con l'abito quanto ci sta bene sto trucco anche occhi chiusi la dovete seguire su Instagram Angela, buon anno a make up e fatevi truccare da lei matrimoni, feste, compleanni lei è eccezionale ma vi giuro che io non parlo con lei ed è bravissima top, guardate cioè mi ha fatto una pelle degli occhi e poi anche il decorti muovi, metto l'abito grazie Angela ragazzi, facciamo pure l'anteprima questa qua ragazzi, guardate come sono bella questo vestito l'ho preso dalla boutique del mastro comunque venite su Instagram è il trucco di Angela Buonanno guardate quanto è bello questo trucco è veramente bellissimo adesso andiamo alla festa chissà non ha fatto questo trucco va bene, non fa niente ciao voglio mettere un nastrino ma che vuole mettere un nastrino non vuole tornare a nascere qua non è scemo è le stesse cose, scusa non vuole fare cose diverse guardate che bello Castello Eventi a quarto è bellissimo guardate che scenografia la piscina che cambia colore tutta la scenografia l'ha fatta di Manuela di Castello Eventi a quarto la dovete seguire su Instagram chiamatela per le vostre feste potete fare qua qualsiasi tipo di festa lei è bravissima guardate cosa ha organizzato tutto lei ha fatto anche i pensierini guardate ma quest'aereo dove sta che lo sento sta là sotto eccolo le marmellatine tutto con la scenografia di Daniel e invece la torta l'ha fatta zucchero e vanilla bellissima con i cupcake guardate che bello facciamo cadere nulla poi qua c'è la sala adesso vi faccio vedere perché stanno arrivando tutti gli invitati guardate che bello e poi c'è anche la sala giù per i bimbi guardate che bello ragazzi guardate che meraviglia vi piace? Castello Eventiquattro ciao va va ormai è buscata Marzelli vediamo non mi fassi i zoom ai tavoli tutti apparecchiati con i segni a posto con l'elicottero l'aereo e la cioccolata guardate quanto sono belli bellissimo poi di là guardate chi c'è vi faccio vedere chi c'è vi faccio vedere chi c'è chi c'è chi c'è c'è ah Peppino anche su youtube già è pronto il nostro maestro sta preparando le pizze loro praticamente vengono ovunque per fare appunto questo aperitivo street food anche i matrimoni preparano le pizze preparano i fritti ci fate un salutino? ciao ciao dopo vi faccio vedere pure la pizza dai wow c'è pronta che meraviglia guardate un po' eccezionali ah Peppino li dovete seguire su instagram guardate quanto è bello il mio amore amore anche Dario guarda qua guarda Manu mamma mia che bello è bellissimo amore anche tu sei bello state benissimo guarda Vabbè Tanti auguri a te, tanti auguri a Daniele, tanti auguri a te. Bravo! Bravo! Tutti le mani in alto! Valerio, allora, com'è stata questa festa? Ragazzi, è troppo caldo! È troppo caldo! E poi è proprio una bella duratidia di sismicare! Signora, tutto bene? Mi sento di volare! Dario, domani chiama a morre un pacchetto cereale! Grazie! Tu? Tutto bene! Tutto bene, niente da commentare! Ormai abbiamo perso la sensibilità, quindi tutto benissimo! Tutto bene, tutto bene! Tutto molto bello! Ma questa parte è tutto bene, vedete come si sta bene così! Guarda! Dario, cosa hai da dire? Dario, cosa hai da dire? Dario, cosa hai da dire? Dario! Dovete venire! Anche se è finita adesso! Dovete venire! Lo aspettiamo in tanti! Ok! Salute finale! Grazie! Sono qua nel mio studio, sto editando appunto questo video! Vi vorremmo ringraziare tantissimo e darvi anche una bella notizia perché poiché abbiamo creato un codice sconto particolare per la festa di Daniel abbiamo deciso di prolungarlo per voi anche su YouTube quindi praticamente col codice Daniel20 avete il 20% di sconto su tutto il sito questo modo appunto per rendervi partecipi del compleanno di Daniel e per permettervi di fare un ordine e risparmiare un pochino sul sito un modo per festeggiare assieme a voi e quindi che sarà attivo 24 ore da adesso che state vedendo il video quindi affrettatevi e su IG questo questo codice ha fatto molto scarpone sono arrivati veramente tantissimi ordini quindi vi volevo ringraziare vi volevo ringraziare per tutti gli auguri che ci avete fatto e per tutti gli apprezzamenti tutto tutto poi ovviamente nella festa non ho potuto riprendere tanto perché mi sono goduta anche il momento vi dico la verità però abbiamo avuto anche una bellissima animazione che ha intrattenuto tanto i bimbi ha fatto fare un sacco di giochi Daniel si è divertito tanto tutti i bimbi si sono divertiti abbiamo avuto i buffet della pasticceria Alessandro che ci ha fatto mangiare delle cose deliziose come al solito lo sapete ci serviamo sempre da lui e cos'altro dirvi ha avuto dei regali bellissimi non ho ripreso il momento scarta la carta perché sono tutti i momenti che mi sono goduta con Daniel quindi voi avete visto semplicemente le scenografie noi come stavamo vestiti punto basta però la festa è stata molto molto bella i bimbi non se ne volevano andare quindi è stato bello ha avuto tantissimi bei regali e niente vi volevo ringraziare perché comunque siete una seconda famiglia per me e anche su Instagram mi avete fatto tanti tanti auguri e vi ringrazio già in anticipo per tutti i messaggi che mi lasciate qua sotto al video vi mando un bacio grande vi aspetto anche su TikTok dove sono super attiva e ho pubblicato sia su Instagram che c'è su Instagram ci sono le storie salvate proprio della festa se volete vedere e su TikTok ho caricato vari TikTok dei momenti più salienti insomma più commoventi e niente e poi vi aspetto su caritashow.com col codice daniel20 vi mando un bacio grande ciao ciao grazie ancora ciao